buongiorno buongiorno a tutti e bentornati qua su gaming galaxy oggi iniziano le guide fatte per i ragazzi di ps4 in realtà saranno le guide fatte per tutti quanti quindi pc, xbox e ps4 guide che andranno a spiegare che cos'è il gioco, come è fatto il gioco e soprattutto come si gioca o meglio come si gioca nelle prime battute perché poi io non sono qua ad insegnare a nessuno come giocare e di conseguenza vi porto solo all'interno del mondo di gioco e non più in là, quindi vi accompagna la porta e poi buona fortuna a tutti, iniziamo con che cos'è la bloodline che cosa sono i rank e soprattutto come si fa a salire di livello allora questa è la bloodline che parte da livello 1 chiaramente a livello 100, lo vedete anche qui in alto, questi sul lato sono i prestigi che uno ha fatto nel corso del tempo se vi state chiedendo perché io sono prestigio 2 perché sinceramente dopo 600 ore di gioco in realtà dopo le prime eventi ho capito che prestigiare non serviva assolutamente a nulla e quindi io non ho mai prestigiato pur avendo 600 ore di gioco ora come funziona la bloodline la bloodline è il vostro livello attuale quindi non è il livello del cacciatore ma è il vostro livello quindi più voi siete alti di bloodline più sbloccherete roba che ovviamente vi viene detta quando andate sotto progress bloodline quindi da livello 1 voi avrete tutte queste bellissime cose quindi tre tratti il winfield il weak vitality shot ce la facevo a dirlo springfield romero nagan first aid kid combat axe electric lamp eccetera eccetera ogni volta che voi salirete di livello con la bloodline e non con il cacciatore vi verranno sbloccati ovviamente armi tratti diversi e successivi quello che vi verrà sbloccato però nella bloodline saranno solo ed esclusivamente le armi base quindi le prime armi della diciamo propria classe come si fanno a capire quante armi ci sono di una determinata cosa semplicemente si va sotto library e potrete vedere sulla vostra sinistra tutte quelle che sono le armi e che voi avete sbloccato durante sia la vostra bloodline che utilizzandole quindi prendiamo l'esempio del mio fucile preferito le bell ok per sbloccare il talon io devo fare un lock con il le bell facendo la lock con le bell che ho sbloccato ovviamente alzandomi di livello con la bloodline mi è stata data la possibilità di comprare anche il talon utilizzando il talon ovviamente sono andato a sbloccarmi anche il marksman così come per il mosi così come per il winfield così come per lo spark eccetera eccetera quindi ripeto e ricapitolo con la bloodline che noi andiamo ad alzare di livello sblocchiamo solo ed esclusivamente la prima arma delle sue varianti e dovremo utilizzare quella determinata arma per poter sbloccare le proprie varianti ovviamente se ne avete voglia e tempo una volta che in realtà avete trovato le vostre armi preferite è inutile andare a sbloccare le altre a meno che di completezza ma ciò non togli che una volta che avrete sbloccato l'arma che vi interessa il resto della library delle armi non vi servirà assolutamente a nulla il prestigio che cosa succede quando prestigiate? ebbene tornate alla bloodline a livello 1 vi viene ribloccato tutto e dovrete rifare tutto da capo chiaramente si prestigia per due motivi il primo avere più prestigio può fare figo quello assolutamente nessuno vi può dire nulla ok secondo se per caso voi non avete più dollari o comunque scendete sotto i 3000 dollari tanto vale prestigiare che vi vengono ve ne vengono dati di più per iniziare e rincomincerete da capo questa è la bloodline non è tanto complicata da capire sinceramente non ci vuole uno studio a impararla in realtà ogni volta che noi andremo in partite quindi noi faremo livelli con il cacciatore ci verrà date una parte dell'esperienza che prenderà il cacciatore rigirata verso la bloodline quindi noi non soltanto estraendo ma comunque portando fuori dalla mappa e quindi portando in salve il nostro cacciatore prenderemo livelli e faremo livelli con lui ma faremo anche un pochino di livelli con la bloodline come si fa a salire velocemente di livello quando si è di livello 1 semplice semplice quando voi avrete portato a livello 25 il cacciatore potrete fare un retire quindi potrete rimandarlo da dove l'avete preso vi verrà spogliato da tutte le sue armi consumabili tool eccetera eccetera e vi verranno dati 2500 XP considerate che per ogni livello superiore al 25 vi vengono dati 100 punti in più quindi al 26 sono 26 al 27 sono 2700 eccetera eccetera chiaro che se voi portate a livello 50 un cacciatore e poi lo mandate da dove l'avete preso ok semplicemente vi verranno dati 5000 punti esperienze direttamente sulla bloodline è molto difficile arrivare a livello 50 sì quindi se non siete di rank 100 e soprattutto se avete bisogno di passare di livello con la bloodline molto velocemente una volta che voi avete portato a livello 25 un cacciatore via prendetene un altro e prendetevi 2500 xp tanto le armi che addosso non vi vengono bruciate e le ritroverete per il cacciatore successivo che altro c'è da dire upgrade li vedremo in un secondo momento comprensivo dell'equipaggiamento possiamo andare a vedere un attimo quello che sono i libri che sicuramente fanno una lore diciamo del gioco i libri delle armi l'abbiamo visto prima vi servono per capire quale arma e quanto bisogna giocare con una determinata arma per sbloccare la successiva mentre per quanto riguarda il libro dei mostri qua ogni volta che noi andremo a uccidere o comunque a impattare contro dei mostri e noi li uccideremo faremo degli xp facendo determinati xp ci verranno dati una volta sbloccati in pratica il livello del mostro ci verranno dati chiaramente dei blood bonds blood bonds che ci serviranno poi per andarci a comprare o le skin leggendarie o le skin leggendarie delle armi quindi semplicemente sono questi questa valuta del gioco che non solo possiamo comprare tramite le microtransazioni ma possiamo anche guadagnare in gioco considerate che io ne avevo un centinaio adesso sono quasi a 1500 vero ne è che io non ho mai speso un cazzo sono un tirchio di merda comunque detto questo l'ultimo manuale è ovviamente questo dove ci sono tutto quello che riguarda il gioco quello che può essere l'equipaggiamento tutte le spiegazioni varie ed eventuali comprensive di tasti che vi spiegano come funziona il gioco in sé è un manuale abbastanza utile se qualcuno è andato a vederlo non credo che qualcuno sia andato a vederlo e quindi se per caso vi manca qualche opzione potete trovarla tranquillamente lì per il resto in realtà come primo impatto questo è Hunt Showdown quindi come si fa il livello come si fa il prestigio e come soprattutto funzionano lo sblocco delle armi noi ci vediamo con il prossimo video invece dove andremo a vedere prima di tutto le armi varie ed eventuali cosa portarsi dietro nei tool e nei consumabili e soprattutto come si vanno ad uccidere i mostri nella maniera più efficace comprensivi dei boss GG a tutti quanti ciao